stasera borussia dortmund milan partita non decisiva per la qualificazione nel girone ma importante per i rossonieri perché visto il pareggio della prima giornata quello casalico contro il newcastle il milan è obbligato a non perdere in germania quindi il pareggio sarebbe il risultato di minimo però ovviamente se arriva la vittoria sarebbe una cosa molto importante per la classifica rossonina visto che poi le prossime due partite saranno contro il psg per quanto riguarda la formazione ci saranno scelte obbligate da parte di stefano pioli visto l'infortunio di love to chic e al centrocampo quindi dovrebbe giocare musa ora è solo da capire chi farà il regista tra musa e renders però la formazione pressoché è obbligata quindi con magnan tra i pali gli esterni di difesa saranno calabria e teo nandez di due centrali ciao e tomori poi al centrocampo musa renders e pobega davanti il tridente sarà sempre lo stesso pulisic leao e giroum grazie a tutti grazie a tutti